Salve a tutti, sono Marta Giulietta Rossi della terza B del classico Andrea da Pontedera e ho letto il libro L'algoritmo all'oracolo di Alessandro Vespignani che tratta di come gli algoritmi ad oggi abbiano preso il posto di quelli che un tempo erano gli oracoli dell'antica Grecia. Questo libro mi è piaciuto molto perché ha lasciato su di me un forte impatto dato che ho avuto la possibilità di approfondire un argomento che io conoscevo e di cui avevo sentito parlare ma che avevo sempre affrontato con un po' di superficialità dato che questo mondo degli algoritmi io l'avevo sempre considerato esterno rispetto alla mia vita quotidiana e invece grazie a questa lettura ho capito quanto coincida in verità con essa. Volevo prendere una citazione di questo libro che mi ha colpito particolarmente cioè abbiamo computer che somigliano a casse forti in cui è costruita la nostra vita. Questa frase mi ha permesso di capire quanto ogni piccola azione possa in verità essere controllata dagli algoritmi per esempio controllare il meteo o vedere a che ore tramonterà il sole sono piccoli gesti che faccio ogni giorno ma che esistono soltanto in dipendenza di questo mondo della scienza delle previsioni e questa cosa la chiamerei un po' spaventosa però sono comunque grata di aver avuto la possibilità di approfondire di conoscere nuovi temi che in ogni caso faccio volentieri e porta comunque sempre soddisfazione e soprattutto partecipare a questo concorso mi ha dato la possibilità di imparare una lezione importante per il futuro cioè di non trascurare gli argomenti in base al primo impatto che ho su di essi. Io sono una grande appassionata di scrittura e ho capito che devo affrontare ogni cosa come un'occasione per espandere il mio hobby ad ambiti e a temi nuovi che prima non conoscevo e che magari da sola non avrei mai trattato. Quindi vi ringrazio e arrivederci. Grazie. Grazie.